Vogliamo implementare il bitcoin nel sistema di pagamento della nostra app, vogliamo iniziare a mettere in pratica anche il taxi sharing, il pagamento attraverso la richiesta del taxi attraverso lo smartwatch e così via. Parole non solo, perché IT Taxi, l'app di unione dei radiotaxi italiani, in collaborazione con Code Motion, ha organizzato Taxi Hack, la prima maratona di programmazione al mondo per il settore, dicono. Per 48 ore sviluppatori, designer, studenti e maker hanno pensato a come migliorare la reputation digitale della categoria. Funzionalità dell'applicazione per smartphone, nuovi sistemi di pagamento, high tech per le auto, più sostenibilità e accessibilità. Siamo riusciti a portare a termine questa bella avventura tutti insieme vincendo il primo premio. Abbiamo implementato un sistema di pagamento in bitcoin per l'IT Taxi, sono la prima realtà italiana probabilmente che speriamo adotterà questo sistema. Ai tassisti piace quindi l'idea di utilizzare la moneta virtuale, che tante perplessità suscita nel mondo, per pagare le corse, utilizzando l'app Bit Taxi. Due le altre soluzioni premiate, Taxi Share, app per calcolare in anticipo il prezzo della corsa e condividerla con altri passeggeri, e TT Team, un servizio sviluppato da due developer e un tassista, che garantisce la tariffa più bassa sul mercato. Riconoscimenti speciali anche per un sistema di entertainment basato sul profilo dei passeggeri e per dei progetti che permettono ai ciechi di prenotare tramite l'app. L'effetto Uber si fa sentire sulla categoria diventata emblema della resistenza al cambiamento. Ma la pace è lontana. Se in Italia il trasporto pubblico di persone deve rimanere tale, è giusto che venga fatta secondo le regole previste. Se invece si decide che il trasporto pubblico di persone non è più pubblico ma è privato, basta dirlo e a parità di regole sapremo competere anche noi senza nessun problema. Siamo sicuri di essere anche più vantaggiosi di Uber. Siamo sicuri di essere anche più vantaggiosi di Uber.